Buonasera, buonasera a tutti, ben ritrovati con Tutto Sport. Abbiamo visto dunque nel TG una domenica davvero ricca di emozioni per quanto riguarda il campionato d'eccellenza con il sondio che ha festeggiato la Serie D con i suoi tifosi. Grandi emozioni anche per quanto riguarda il rugby, abbiamo questa sera con noi il nostro ospite Luciano Gorla, coach della sedertoria del rugby sondio. Buonasera Luciano. Buonasera a tutti e complimenti al calcio sondio che è tornato in Serie D. Partita contro Bergamo, quella del rugby sondio che è finita sul 31 pari, una partita molto combattuta, ma noi abbiamo nei nostri studi Luciano Gorla anche perché abbiamo un premio alle porte per Luciano, sportivo sondriese scelto appunto dai cronisti sportivi della provincia di Sondio, che verrà assegnato il premio il giorno 3 maggio in municipio. Prima di tutto un commento su questo riconoscimento, Luciano. Sono rosingato di questo premio perché è un premio che va oltre i raggiungimenti sportivi di carriera, ma è un premio che va un po' al sociale, sicuramente quello che le persone danno agli altri attraverso lo sport e questa è una cosa che mi fa molto molto piacere. Guardiamo il tuo curriculum, tu sei nato nel 74, il 29 aprile, quindi ti facciamo gli auguri con un giorno di ritardo. Va bene lo stesso, grazie. E il regalo insomma è sicuramente gradito, no? Molto, molto gradito. Il riconoscimento che arriva? Sì, veramente inaspettato, non me lo aspettavo sinceramente, però è molto gradito. È una cosa che mi fa molto piacere perché è bello sapere che qualcuno ti valorizza per quello che, ti ripeto, al di fuori dei traguardi sportivi è proprio quello che forse lasci agli altri, ai ragazzi, a tutto quello che è l'ambiente dello sport. Certo, la trafila nelle giovanili del Sondrio, giusto? Il tuo primo approccio con il mondo della palla ovale e poi ovviamente sappiamo che tu vesti la divisa, la polizia di Stato. Vesto la divisa, diciamo che la polizia di Stato mi ha dato l'opportunità di entrare in gruppi sportivi delle Fiamme Oro nel lontano ormai 95 fino agli anni 2000. Poi sono passato con la Rugby Parma, Rugby Roma, ho avuto la fortuna di fare quattro cup europee e di conoscere e avere il piacere di giocare contro i migliori giocatori del mondo in quegli anni e poi ho continuato la mia carriera più che altro come preparatore atletico, poi dando una mano prima ai miei scompagnoli di panchina, Gemma Grillotti, e poi seguendo sempre un po' la parte più tecnica della Sondrio Sportiva. Quest'anno prima squadra con Bodgan e Nake e abbiamo questa partita per l'appunto combattutissima, è partita subito lancia in resta a Bergamo e tra l'altro è stata un po' la vostra bestia nera in questo campionato, giusto? Sì, perché loro erano un fallanino di coda e noi siamo riusciti a perdere a Bergamo e a fare un pari appunto questa domenica. Sono andati in vantaggio dopo otto minuti, la prima meta è per Bergamo, il ventesimo poi anche il calcio piazzato, il venticinquesimo un'altra meta trasformata e poi lì avete deciso di far sentire il vostro peso. Sì, sicuramente a Bergamo doveva fare risultato perché si lotta la non retrocessione con Novara. Noi non avevamo più in 3 kg al campionato, io ho chiesto ai ragazzi di farmi un regalo, e fare un regalo soprattutto a loro stessi di esprimere un gioco, il gioco con cui noi vorremmo esprimere. Non ci è riuscito benissimo, alla fine è uscito un pareggio. Poi due metri diciamo di Giacobbi e Mantelli per accorciare le distanze, al quarantesimo ancora Orobici in meta, poi nella ripresa avete davvero messo il coltello fra i denti, dopo 3 minuti la meta di Ciapponi, al cinquantacinquesimo sole, schiacciato la palla appunto in meta, poi lì c'era il pareggio temporaneo, al sessantesimo nuova meta per Bergamo e poi infine Marco Schienatti per il 31 pari definitivo. Insomma una partita testa a testa come si può dire. Sì, poi sicuramente i ragazzi come fanno tutto l'anno grande cuore, forse abbiamo delle carenze tecniche sicuramente, però grande cuore come sempre. Guardiamo anche la classifica, 33 punti fino a questo momento, mancano due giornate, la prossima sarà una trasferta in Sardegna sul campo di Capoterra e poi l'ultima di campionato in casa invece con Piacenza. Un bilancio seppur provvisorio di questa stagione? Allora, sicuramente all'inizio stagione ci aspettavamo qualcosa in più. C'era un progetto iniziale che poi per causa svariata è andato in porto, alcuni giocatori che dovevano arrivare, invece poi per motivi personali di lavoro, non sono arrivati, alcuni della vecchia guaria che hanno smesso, insomma ci siamo trovati un po' così. Sicuramente abbiamo dovuto rivedere i nostri piani, la presenza in campo durante i venamenti direi che è stata bassa quest'anno. Anzi approfitto per ringraziare il gruppo dei 10-12 che sono sempre stato e a cui devo veramente tutto il campionato, con i quali poi alla fine sono quelli con più scontri e più ho idee di verbi, però le ringrazio veramente di cuore, ma loro lo sanno. E poi abbiamo avuto quest'anno sicuramente un campionato da ricordare, perché avete una nuova casa. Sì, sicuramente è un grande sforzo societario, del comune, di tutti i partner. Finalmente c'è questa nuova sede, devo dire che è un punto di aggregazione molto importante, non solo per il rugby di Sonia, ma per tutto il movimento sportivo sondriese. Sicuramente le porte, come tutte le varie città sanno, sono aperte a tutti e speriamo che da lì, da qui, sia veramente un punto di partenza per l'aggregazione, per tutto il movimento sportivo, ma come ripeto, non solo del rugby di Sonia, ma di tutto il movimento sportivo sondriese. Pochi giorni fa è passato anche a trovarvi il presidente della Federazione Italiana Rugby, Gavazzi, ha fatto i complimenti. Sì, sicuramente la presenza del presidente e delle istituzioni federali è una cosa importante. Guardando proprio anche alla prospettiva del rugby valtrinese, che è sempre stato un rugby comunque di alto livello, la B è stata confermata anche quest'anno, ma in prospettiva cosa si può fare ancora? Secondo me l'unica cosa da fare per migliorare è una sinergia, sia con il Sondalo che con De Lebio, con tutte le varie difficoltà che ci sono. Quest'anno non siamo riusciti a farlo, spero che per il posto campionato si riuscirà a concludere qualcosa, ma per il bene di tutti. Sicuramente siamo una valle a livello geografico, non molto fortunata che siamo distanti. Però se si vuole crescere bisogna dare modo di interscambiarsi, non ci devono essere rivalità, ci deve essere un lavoro comune per crescere. Abbiamo visto le ragazze in campo in questi giorni e poi anche il settore giovanile che sta lavorando parecchio. Sì, sicuramente il settore giovanile sta lavorando molto bene, sicuramente Roberto Altoè, il nostro direttore sportivo, sta facendo un bellissimo lavoro. L'Under 18 sta andando molto bene nelle fasi finali del campionato regionale, quindi direi bene, le prospettive sono positive. Sicuramente come in tutti gli sport, nella fase che passa da Under 18 all'Under 20 alla prima squadra, c'è un abbandono e questa è un po' la problematica di tutti gli sport. Poi noi siamo distanti dall'università e sicuramente paghiamo un po' lo scotto. Quindi i ragazzi si iscrivono poi all'università, ovviamente è più difficile conciliare impegni sportivi e universitari. Ci spostiamo nel mondo del basket, domenica Mara per il basket Sondrio, nella gara 3 dei play-off di Serie D, i ragazzi di Coach Caponetti hanno affrontato il campus Varese, gli ospiti si sono imposti con lo score di 87 a 67, prestazione maiuscola per Cadario con 29 punti, tra i sondriesi top scorer benvenuti con 25 punti, Sondrio è scese in campo senza triulsi, squalificato e dopo pochi minuti ha perso anche per l'infortunio De Gianni. E parliamo anche di scialpinismo, una grande festa per celebrare una grande stagione, quella in agenda il 5 maggio, nella palestra di Albosaggia a partire dalle 20.30, il festeggiato Michele Boscacci, vincitore della Coppa del Mondo di scialpinismo e anche del circuito la Gran Corsa 2018. I riflettori saranno puntati anche sull'astronascente Giulia Murada. Insomma davvero grandi risultati per Michele, per i nostri scialpinisti. Abbiamo ancora alcuni secondi, Luciano guardando proprio anche alla tua carriera, questo premio che riceverai il 3 di maggio, parlavi anche dei valori da trasmettere, oltre ai risultati sportivi. Il vostro è uno sport davvero dove il fair play, il terzo tempo nella dimostrazione, sono parte integrante del gioco? Sì, all'interno del gioco ci deve essere un grande rispetto per gli avversari. Il campo è battaglia, però dopo... Sì, essendo uno sport di contatto è facile uscire dalle regole, no? E quindi il rispetto è quello. Sicuramente è uno sport dove bisogna dare tanto, ma da tanto, soprattutto a livello di amicizia, amicizia, di legame umano, secondo me è un valore aggiunto. Chiudiamo con una dedica. A chi dedichi questo premio? Ma lo dedico un po' a tutti quelli che mi sono stati vicini, sicuramente a mia figlia, che è stata lei tra l'altro a spingermi a continuare quest'anno, e niente, anche un po' a me, dai. E in futuro? Luciano Gorla sarà ancora nel mondo del rugby? Ma penso sicuramente resterò nel campo del rugby, non sul campo, quest'anno penso di prendere un anno un po' lontano dai campi, e mi sto dedicando a altre cose. Non lascerò, per quanto riguarda il rugby, la nazionale di rugby a 13, che il 28 di giugno abbiamo un appuntamento a Spoleto nella gara di ritorno contro il Pakistan, e sicuramente dedicherò più tempo alla nazionale un altro progetto che è in fase di lavoro. E quindi ci risentiremo. Grazie mille Luciano, complimenti ancora. Grazie a voi e buon lavoro. Noi siamo in chiusura, ci vediamo la settimana prossima con tutto a Spol, non mancate.